Ecco, allora, il siamese è un gatto lungo, più lungo è meglio è. Si trova in tutti i colori che si trovano sui gatti, c'è gli occhi blu e la particolarità è che la colorazione è ristretta alle punte, cioè la maschera, le orecchie, le zampe e la coda. Poi ci sono anche, non so, adesso ci sono un po' di foto. Adesso andiamo con le foto della quarta categoria. Questo però appartiene sempre alla terza, Susan? No, questa è la quarta categoria. Questa è già la quarta categoria. Questa è la quarta categoria, siamese e affini. Guarda, questo Susan l'ho preparato per te. Sì, ma questo è un siamese, diciamo, thai. Questo è un match tra un siamese. È un thai. È un cagnolone. Perché questo è del siamese vecchio tipo. Come vedete la faccia è molto più rotonda, le orecchie sono più piccoli. Abbiamo trovato questi video curiosi del siamese, che insomma è un gatto, tra l'altro anche molto chiacchierone. Molto chiacchierone, infatti questo che ho qui in Gabbia sta chiacchierando. Questo è un gatto che sfascia le tende, no, questa è la zanzariera. Queste sono... Ma anche le tende, infatti a casa mia non ho tende. Ah, ecco, ecco, quindi... Per questo. Vietato le tende in casa per il siamese. Andiamo con le foto. Ecco, questo è un gruppo di vari colori di siamese. Questo è un blue point, come questo che ho qui in braccio. Questo è un chocolate point. E questo è un lilac point. Lilac sarebbe quello che si dice grigio, però nei gatti non diciamo grigio, diciamo blu e lilac. Questo è un rosso, questo è un crema, questo è un squama di tartaruga, un tabby, scusate, un torti. Anche questo è un torti, un altro torti. Mamma mia, guardate le razze. Sì, sono tutti colori diversi. Questo è un torti tabby, quindi è un mesculio fra torti e tabby. Anche questo è un torti tabby, però chocolate. E questo è un lilac torti tabby. Questo è un cucciolo. Quando nascono i cuccioli, come diceva prima Elisabetta, sono bianchi. E viene fuori il colore pian piano dopo qualche giorno. Questo è un seal point. E parliamo in questo caso sempre del siamese, ma Susan ci spiega anche altre tre razze della quarta categoria. E allora, come sono tante foto... E allora, il siamese era il primo, diciamo, la prima razza. E adesso partiamo con le altre foto che, tra l'altro, Susan ci ha mandato tantissime foto in settimana, quindi ti ringrazio. Ecco, questo è l'orientale. Questo è l'orientale che sarebbe la stessa stazio del siamese, però il colore copre tutto il corpo e ha gli occhi verdi. Sì, devono essere proprio verdi e smeraldo. Questo che mi angola che sentiamo noi, non so se sentiamo da casa. È dentro la gabbia. Questo è un tabby. E questo è un cucciolo tabby che è bellissimo, questo qui. Questo è un lilac. Come vedete, è un grigio, però noi diciamo lilac. Questo è un rosso. E questo è un altro rosso, è un rosso adulto questa volta. È un altro mantello. Questo a destra è un foreign white. Foreign white è un siamese bianco, però sempre siamese. Questo è un ebony, è un orientale nero. Qui si vede molto bene. Vede qui il colore dei occhi dell'orientale. Sempre un orientale, spotted, spotted tabby. E questo è un giovanese. Giovanese sarebbe un orientale a pelo lungo. È un altro giovanese. E quanti colori, Susan? Quanti colori? E sono tutti i colori disegni che si trovano sui gatti. Si trovano quasi... Siamese e orientale ce li hanno tutti. I balanesi non ci sono. E adesso arrivano, perché lei ha preparato tutte le cartelline. E quindi andiamo avanti. Questo è il seychellois. Questo è il siamese con bianco. E questo è un seychellois a pelo lungo. Quindi sulla testa si vede un po' di bianco. Dobbiamo solo spiegare ai nostri spettatori che questi... Abbiamo perso. Guardate come gli sta il gatto in braccio. Sì, sì, così. Fantastico. Per far vedere che è lungo. È un gatto lunghissimo. Sono dolcissimi questi gatti poi. Ed eccolo qua. Ah, no. Non è il balanesi. Questo è il Peterbolt. Cos'è, però? Questo è il gatto... Questo è il Peterbolt, il gatto nudo. Il gatto nudo. È il gatto nudo del tipo siamese. Il Peterbolt ha... Questa è la mamma con i piccoli. Il Peterbolt ha quattro mantelli diversi. Si va proprio dal nudo al normale, diciamo. Queste sono le zampe di un Peterbolt. Sembrano umani, ovviamente senza pelo. Ecco, questo con un pochino di pelo. Ed ecco l'ultima razza della categoria. Bello. Allora, mentre il siamese viene dal Siam, cioè l'oderna Thailandia, il balinese invece è stato costruito da allevatrici americani negli anni 50. E si chiama balinesi perché hanno detto che sembra una danzatrice esotica balinese. E sarebbe il siamese a pelo lungo. Bene, e allora, questo era il siamese a pelo lungo. Stupendo. Questo è un tortì.